Atomico, raccontaci un po'. Atomico si è ispirato a una frase di Michael Studick, il cantante di R.E.M., che dice It's the end of the world as we know it and I can find. Quindi ci sono questi personaggi che scappano da questa fine del mondo ma tra di loro c'è un personaggio atomico che si chiama Sgedda che mi sta bene fondamentalmente, infatti, I feel fine. È una tecnica mista su Nutella e niente, quindi questo mondo un po' astratto, un po' non dove c'è questa fura dall'apocalisse.